Svolge un'attività nel settore dello sport e del tempo libero, ma fin dalla sua costituzione è sempre stata vicina al mondo del sociale. E lo ha dimostrato ancora una volta l'associazione Incoming Fano, che ha aderito all'appello divulgato dall'assessora allo sport, Caterina Delbianco, di aiutare la sezione fanese della Croce Rossa italiana, impegnata nella ricerca fondi per l'acquisto di apparecchiature di ultima generazione utile all'intera collettività. Il consiglio direttivo di Incoming ha così stabilito di donare la somma di 1000 euro all'associazione, composta da 110 volontari, tra cui molti giovani. Credo nelle associazioni, credo nell'associazionismo, ma soprattutto credo nel sociale, quindi con lo spirito di collaborare per il nostro piccolo contributo, che può essere con la collettività fanese, questa mattina abbiamo onorato un impegno che già nel mese di ottobre avevo annunciato. A ringraziare Pedini è Daniela Camera Canna, responsabile della Croce Rossa italiana, che ora è in contatto anche con l'amministrazione comunale di Fano per la ricerca di una sede più idonea e spaziosa, per poter svolgere le attività di formazione con corsi rivolti ai volontari e alla cittadinanza. Intanto il presidente di Incoming Fano spera che questo contributo possa stimolare le altre società fanesi, affinché si riesca a raccogliere i fondi necessari per l'acquisto importante di un mezzo di soccorso. A parte il riconoscimento da parte dell'associazione del nostro lavoro, ma è anche un grosso contributo, perché essendo un'associazione fondata solo sui volontari, avere aiuti economici è importantissimo.